buona sera amici telespettatori benvenuti su SKTV per la diretta di questo big match degli europei Montenegro contro il Portogallo guardiamo quarta giornata, girone B, arbiterà Stanziano Sandro, il Portogallo alla vostra destra mentre il Montenegro a sinistra, abbiamo servito il saluto al pubblico a corso fin qui per seguire la propria nazionale e poi lo scambio di strette di mano tra calciatore ed arbitro bel gesto di fair play, prima del tocco che si tratta adesso, capitani faccia a faccia dunque dal inizio al match il Portogallo che attaccherà da sinistra verso destra almeno per questi primi 25 minuti di gioco ci vediamo tra Montenegro e Portogallo, 0-0 il parziale quando sono trascorsi pochi istanti all'inizio del match vediamo la mano Grazie a tutti 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 Grazie a tutti